L'esercito sfilano su mezzi i gonfaloni delle regioni italiane, delle province autonome e dell'Unione delle province italiane e lo stentardo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. I gonfaloni e lo stentardo sfilano in formazione a bordo di automezzi militari del tipo veicolo multiruolo 90. Si tratta di un veicolo tattico in uso presso tutte le forze armate disponibile in diverse versioni. Dalla versione ambulanza a quella più diffusa impiegata per il trasporto tattico delle truppe. Grazie. 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 E' ora la volta dei medagieri, delle bandiere e dei labari, delle associazioni combattentistiche partigiane, d'arma di categorie e di specialità, che spinano anch'essi a porto di una formazione di automezzi militari del tipo veicolo multiruolo 90. Accompagnano in passaggio le note dell'indo del piave intonate dalla banda dell'esercito. L'associazionismo militare costituisce la testimonianza e la continuità del valore dei nostri uomini in alto e dei sacrifici che il popolo italiano ha compiuto dall'unitarietà piano oggi. I vestiti delle associazioni combattentistiche partigiane e d'arma di categorie e di specialità rappresentano i caduti di tutte le guerre. Essi sono i custodi delle tradizioni e della memoria delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e di tutti coloro che hanno servito con onore l'Italia e testimoniano il salto legame esistente con le nuove generazioni. Le associazioni combattentistiche partigiane e d'arma di categorie e di specialità assorbono il ruolo dei custodi delle tradizioni e della storia militare che la nazione non vuole dimenticare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.